I dubbi che molti medici manifestano circa la difficoltà di recuperare le somme a seguito di sentenza ancorché positiva paiono decisamente infondati. La sentenza costituisce un titolo esecutivo per legge e come tale lo Stato è tenuto a pagare in quanto è un debitore come tutti gli altri. In caso di pagamento spontaneo dello Stato vengono quindi poste in essere tutte le azioni esecutive finalizzate al recupero coattivo della somma liquidata in sentenza. Le somme liquidate in sentenza non sono soggette a tassazione e non vanno a fare cumulo con il reddito del professionista, questo perché vengono erogate anche a titolo di risarcimento danni e come tali queste somme non possono essere gravate da ulteriori imposte.